Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video Innanzitutto spostiamo un po' il cuscino perché si deve assolutamente vedere Allora, tralascendo questo, sto registrando questo video diciamo in anticipo Perché oggi è giovedì 4 luglio ed è l'una E ovviamente sto facendo questo video per quanto concerne l'arrivo di Mattiello Alcaieri Lo sto girando in anticipo perché comunque, scusate, sto prendendo il caffè Sto girando questo video in anticipo perché comunque nelle ultime ore sono praticamente sicure le voci dell'arrivo di Mattiello Alcaieri Quindi per non farmi trovare in preparato registro il video prima, lo metto in privato e poi quando arriva ve lo carico Allora, Mattiello quasi sicuramente è un nuovo giocatore del Cagliari Anzi, se vedete questo video è un nuovo giocatore del Cagliari Allora, di Mattiello possiamo dire che è un tersino destro Che negli ultimi anni è stato sfortunato, penso a tutti Ci ricorderemo il bruttissimo infortunio ricevuto da Nainggolan in quel Chievo Roma Però è un tersino destro che ci può essere molto utile Ci può essere molto utile perché potrebbe essere il titolare al posto di Cagliatore Nonostante, come dica Andrea, la sua integrità fisica non sia una delle migliori Però comunque, secondo me, può tranquillamente ricoprire il ruolo di titolare con Cagliatore a fare il sostituto L'unica cosa che non mi piace, devo essere sincero, di questa operazione è la modalità O meglio, sono assolutamente d'accordo al fatto di avere Mattiello in prestito con diritto di riscatto Perché secondo me è una delle formule migliori che esistono nel calcio moderno Perché ti permette, diciamo, di provare un giocatore e poi capire se può fare al caso tuo o meno La cosa che non mi fa impazzire è il fatto che sia un prestito oneroso Non dobbiamo sborsare una cifra allucinante perché, per carità, parliamo di 600.000€ se non mi sbaglio Però è una signor cifra Nel senso, mettiamo putacaso che tu utilizzi Mattiello Capisci che non è un giocatore che ti può far comodo e non rientra nel progetto Cagliari Tu hai perso 600.000€ Ne vale la pena perdere mezzo milione di euro e passa per un giocatore in prestito? Diciamo che la cosa mi fa un po' titubare Però dall'altro canto abbiamo la possibilità eventualmente di riscattarlo a 3.500.000€ Qualora fosse un buon giocatore, se dimostrasse essere un buon giocatore in quel di Cagliari E inoltre bisogna dire che Mattiello è anche abbastanza duttile Perché oltre al ruolo di terzino destro che dovrebbe essere il suo ruolo naturale Può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro e soprattutto di esterno destro a centro campo Quindi potrebbe, diciamo, essere polivalente in quel di Cagliari Qualora Maran scegliesse di usare anche altri moduli oltre al 4-3-1-2 Staremo a vedere, staremo a vedere Io mi ritengo abbastanza fiducioso per questo arrivo Perché è un ragazzo giovane, è un ragazzo italiano E ha tutte le carte necessarie per diventare, non dico cristiano Anzi canselo, non dico canselo Però ha un buon terzino destro Quindi io spero che possa fare bene in quel di Cagliari Mi raccomando, come sempre Invece fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate Detto questo non ci becchiamo in un prossimo video Bella